Il 6 aprile i lavoratori dell'Irisbus hanno indetto un'assemblea, qui hanno chiamato lavoratori e delegati di altre fabbriche in giro per l'Italia che in questo momento sono impegnati in vertenze sociali e sindacali per la difesa del posto di lavoro. Io credo che siano appuntamenti importanti perché punta a riconnettere diversi punti di crisi, ad articolari tra loro e generalizzarli in un'unica vertenza. Mai come ora, mentre gli effetti della crisi economica si fanno sempre più pesanti, occorre rilanciare la battaglia per la difesa di ciò che resta dell'apparato industriale, per la garanzia del lavoro, del reddito e soprattutto imporre anche sul piano culturale e politico idea forza della riduzione generalizzata dell'orario di lavoro. Perché solo attraverso questo strumento possiamo liberare tempo di vita, tempo di lavoro e garantire occupazione e verbi doveri.